Ciao a tutti sono Salvatore di Overstep e questo è un piccolo tutorial sulla cache di Google la cache di Google è una memoria temporanea in generale questo tipo di memoria è piuttosto veloce e viene utilizzata per un breve periodo questo vale in generale per per vari tipi di applicazioni di informatica ma nello specifico la cache di Google è sostanzialmente una parte di memoria che voi potete vedere cliccando sul triangolino qui a fianco di qualsiasi risultato di ricerca selezionate copia cache ed eccola qua questa in particolare è la copia che ha memorizzato Google di questo indirizzo qui quello che vedete qui sopra in alto in effetti troviamo un po' di informazioni su questa pagina ci viene detto che questa è la copia cache di Google è una un'istantanea quindi della della pagina originale c'è una data e un'ora in cui questa acquisizione è avvenuta e viene anche specificato ovviamente che il contenuto della pagina potrebbe essere stato cambiato nel frattempo all'interno del menu principale troviamo tre voci molto semplici che sono la versione completa della pagina che è una versione fondamentalmente fedele all'originale in questo caso abbiamo preso una pagina di wikipedia proprio la definizione cache possiamo anche vederla in formato solo testo che è questa qui quindi senza css senza grafica né immagini possiamo vedere anche il sorgente della pagina ovviamente il senso di questo discorso è chiaro nel momento in cui noi possiamo utilizzare la copia in memoria di Google per recuperare per esempio i contenuti di un sito chiunque debba gestire un sito del resto lo sa può capitare in moltissimi casi che non sia possibile per via di un problema tecnico di qualsiasi tipo recuperare un determinato contenuto su una certa pagina potrebbero succedere in generale diverse cose potrebbe succedere ad esempio che abbiamo un problema nel sito e quindi non possiamo recuperare una parte di testo che è contenuta all'interno dello stesso in questo caso il sito overstep qui visualizza tutto correttamente ma se noi volessimo vedere la copia cache di overstep faremmo in questo modo qui prima di tutto togliamo https poi scriviamo prima dell'indirizzo del sito cache due punti senza spazio nome del sito se clicchiamo invio questo funziona sia su chrome che su firefox noi sostanzialmente andremo a vedere quella che è la copia della pagina in questione possiamo fare la stessa cosa anche qui ed eccola qui e questa è una copia nello storico di google che è uno storico con poca memoria ma che comunque può essere molto utile per effettuare un recupero di contenuti o per vedere com'era il sito prima che facessimo delle modifiche è stata memorizzata il 6 maggio 2020 io ho registrato questo video il 7 quindi è una copia di ieri nello specifico ci sono vari motivi per cui possiamo prendere questa scelta siccome i siti sono sotto la nostra gestione quindi noi abbiamo anche giustamente un livello di autonomia che google ci lascia sulla possibilità o meno di essere presenti come copia all'interno di google quindi per fare questo possiamo inserire il metatag robots con content no archive in questo modo google non preleverà la copia cache il secondo sistema è quello di evitare che il google bot possa scaricare la pagina ovviamente questo può comportare dei problemi perché ovviamente il blocco della cache da parte di google in questi termini potrebbe del tutto impedire l'indicizzazione del nostro sito all'interno del motore ci sono però alcune pagine che noi possiamo specificare con l'url quindi sostituendo allo slash che qui fa riferimento alla home con un url specifico cioè che quindi google non ci possa mai passare ovviamente se la pagina fosse presente all'interno di google è consigliabile utilizzare questa prima tecnica e poi richiedere esplicitamente la rimozione dell'url dalla search console in genere la durata della cache è variabile può durare qualche giorno o eventualmente anche qualche settimana dipende da un mix di impostazioni che sono legate essenzialmente a due fattori il primo fattore è google sul quale ovviamente non possiamo intervenire il secondo fattore che può avere la sua importanza è la durata della cache all'interno del nostro server quindi come è stata impostata a livello di hosting a livello di ht access eccetera se non riusciamo a recuperare i dati in questo modo se vogliamo vedere com'era il nostro sito in passato quindi su termini più lunghi di tempo possiamo andare qui su archive.org troviamo un vero e proprio archivio di quasi tutti i siti web anche in questo caso è possibile evitare questa indicizzazione se non la evitiamo in genere tutti i nostri siti vengono copiati qui dentro e la cosa interessante è che troviamo un vero e proprio storico campionato più o meno casualmente con una frequenza di almeno un paio di volte al mese di solito in cui praticamente voi trovate data e ora di acquisizione quindi voi potrete vedere com'era quel sito in quella determinata data e in quella determinata ora questo può essere utile per recuperare contenuti avere un riferimento quando per esempio abbiamo fatto delle modifiche grafiche non ci ricordiamo più com'era la pagina prima e quindi andiamo a vedere questo può essere anche utile per vedere come si è comportato per esempio un sito della concorrenza che tipo di contenuti avesse o anche quando noi andiamo a comprare un dominio che era stato utilizzato da altri vedere che cosa era stato fatto su quel determinato dominio prima di comprarlo questa è una copia di seoroma.com che risale al 2019 non è detto che vengano caricate le immagini in molti casi questo avviene però può anche succedere che le immagini non vengano memorizzate su alcuni siti è così dipende diciamo da una varietà di fattori che non sempre sono troppo agevoli da prendere in considerazione e gestire per questo tutorial è tutto se volete contattarci per una consulenza per il vostro sito vi ricordiamo i nostri recapiti che trovate all'interno di overstep.it oppure di seoroma.com da Salvatore è tutto alla prossima e grazie grazie